segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te però fresca e fresca che vorrei commentare con lei un appunto questa indunga intervista la repubblica della ministra francese boom per gli affari europei che parla di vigilare sui diritti di crema e loro vegetariano sui diritti rispetto all'italia la meloni si è arrabbiata ha ragione la meloni condivido si devono fare i fatti loro non loro non vigilano proprio sul nulla noi facciamo parte intanto siamo un paese fondatore dell'unione europea se c'è una questione attinente ai diritti allo stato di diritto se ne occupa l'unione europea come peraltro ha fatto con polonia ungheria anche in maniera incisiva diciamo che siamo anche un paese con degli anticorpi esattamente siamo un paese che per il momento è un paese dove c'è pieno lo stato di diritto e dunque è del tutto inopportuno insomma se se io fossi nella condizione della meloni mi sarei espresso come si espressa lei benissimo seconda domanda arriva un'agenzia da fonti lega non ci sono veti di alcun tipo su matteo salvini il cui ottimo lavoro ai tempi del viminale non è in discussione ma io sono non lo so non non capisco qual è il lavoro intanto non ci stava mai al viminale faceva le dirette facebook andava alle sagre quando gli chiedevano ma scusi perché non sta al viminale lui disse io posso lavorare benissimo da da ovunque insomma per uno che aveva il primo incarico di diventato i flussi non ha fermato nessun flusso i flussi li ha fermati minniti con un'opera molto dura ha detto che avrebbe rimandato a casa tutti i clandestini ne ha mandati a casa meno di alfano poi ha detto che i clandestini non erano 500 mila erano 50 mila poi ha chiuso gli sprar che erano gli unici centri che funzionavano ma dando queste persone in giro per l'italia è stato un ministro disastroso anche molto lacunoso e dunque serve un tecnico al viminale io non lo so che serve sta giorgia meloni e sulleati definirlo quello che dico è che se fossimo nella vita reale il giudizio di merito su come stato salvini al viminale lo escluderebbe dal viminale ma siccome la politica il merito non c'entra niente magari ce lo ritroveremo al viminale allora scusi ecco ma torniamo un attimo alla meloni